Poi tra l'altro bisognerebbe vedere se altri personaggi ad alto reddito hanno chiesto il bonus di 600 euro Ne stavamo parlando fuori onda con Fabio Duranti che invece adesso è in onda Eccoci, ciao Stefano, ciao, buongiorno, come va? Molto bene, allora io l'ho fatto... Benvenuto al mattino, è un piacere vederti Ho fatto la premessa all'inizio trasmissione che è la premessa che hai fatto pure tu Cioè, eticamente è una cosa scandalosa, ma la legge è stata scritta appena di segugio Questa storia dei 600 euro ai parlamentari Ma guarda Stefano, io credo che ben più grave è il fatto che sia stata scritta la legge Sì, è grave che 5 cretini probabilmente insaziabili, sai quelli che hanno la malattia parlamentare? Ma che ci devono fare con 600 euro quando ce n'è 18 mila netti al mese? Stefano, cosa ci deve fare Jeff Bezos con 500 mila miliardi quando ne ha già 500 mila miliardi di miliardi di miliardi? Che ci fa? Niente, è la malattia mentale, è chiaro, no? Poi questa seconda che abbiamo detto è peggio ancora perché ci vuoi governare il mondo Dico Bezos per dire un altro di questi iper miliardari che ormai non si accontentano mai Vogliono distruggere tutto, commercio, salute, vogliono proprio renderci schiavi totali E ne parliamo quotidianamente Però nel piccolo, cioè nel piccolo, non è nel piccolo, cioè queste persone potrebbero essere dei potenziali Bill Gates Capito? Perché non si accontentano mai Però io queste li ascriverei più alle malattie psichiche, ok? Cioè quelle proprio che sei malato E' come il creptomane, dice quello ruba, perché ruba? Perché è scemo, perché ha un problema nella testa, ha un bago nel cervello E va un attimo fatto un debugging, in genere gli psichiatri esistono per questo E quindi quello è un malato Io, ma peggio ancora, per me Scusami, arrivano i coming out Stanno arrivando i coming out, scusa ti interrompo Perché come detto c'è gente che dice sì l'ho chiesto Perché c'erano oltre i cinque parlamentari di cui si sa per certo, anche se non sono stati rivelati i nomi Ci sono oltre duemila politici locali a vario livello E c'è il primo coming out, una consigliera comunale di Milano, Anita Pirova, no? Consigliera comunale di Milano, quindi comunque Milano, metropoli, non è che prende pochissimo E dunque, consigliera comunale di Milano, progressista e coordinatrice metropolitana di Sinistra Ecologia e Libertà E ha scritto un post e dice, l'ho chiesto, sì l'ho chiesto Non vivo di politica perché non voglio e non potrei, non potrei perché ho un mutuo, faccio la spesa, mantengo mia figlia Poi è da controllare quanto prendono i consiglieri comunali di Milano, no? Per curiosità, ogni tanto mi piace uscire Ma è normale, è durante le ferie andare in vacanza Vedi, te l'ho detto che è il problema mentale In più ho studiato fino al dottorato e all'esame di Stato per diventare psicologa e ricercatrice sociale Professione in cui negli ultimi tempi mi sembra spesso di essere più utile alla società che il Consiglio Comunale Dimettiti, scusa Voglio dire, ti piace di più fare quelle altre cose Infine, soprattutto, pur non cedendo alle sirene antipolitiche Ho capito sulla mia pelle che avere un lavoro mi consente di essere più libero dell'impegno politico presente Ancora più nel centro del futuro per definizione incerta Vabbè, quindi comunque ha chiesto il bonus E come dicevo, vedi che ci sono problemi Cioè, questa gente vede le cose a modo suo Cioè, è così, per loro è così Cioè, se tu chiedi a Bill Gates dei vaccini Che ti deve rispondere? Lui vaccinerebbe anche i sassi Che ti dice? Quello c'ha una malattia Cioè, ha quella visione del mondo Il problema è che capita in mani di persone iper ricche Ecco qua quello che sta accadendo Lo vediamo tutti i giorni Diventi il padrone dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Pure se non sai neanche mettere due righe di codice una dietro l'altra Figuriamoci le mani addosso a una persona Però diventi il padrone E quelle sono persone che hanno uno squilibrio, a mio parere Lo squilibrio sta nel fatto di voler governare Di voler comandare Di giocare al risico Ai soldatini O peggio ancora Al Truman Show Però loro lo fanno Perché hanno dei soldi E ne vorrebbero sempre di più Per poter giocare a quel gioco Nel piccolo come vedi anche le persone Dice beh ma io devo fare questo Andando in palestra Devo fare lo spritz alla sera Eccetera eccetera Che volete da me E quei 600 euro mi fanno comodo Quindi Per loro è normale Cioè detta così Sembra come fosse una cosa normale Capisci Stefano? È un problema mentale Io mi preoccupo però Non tanto di queste persone Che hanno Che insaziabili Che vanno a chiapare Io mi preoccupo di quelli che hanno scritto le leggi E che glielo hanno consentito È illegale questa cosa? No E allora Ma noi ci indigniamo Scusate Però abbiate pazienza Io sì Poi non mi interessa neanche Quali sono le forze politiche Le appartenenze Perché quando sei scemo Sei scemo È come il terrorista No Quello non è il terrorista Dice il terrorista di sinistra Il terrorista di destra Il terrorista è terrorista È un criminale Che poi militi da quella parte Piuttosto che dall'altra Perché in quel momento Gli fa comodo così Probabilmente se lo avessero chiamato dall'altra parte Avrebbe fatto la stessa identica cosa Perché poi Sai Stefano L'ideologia È una cosa secondaria per il criminale E anche in questo caso Non conta l'appartenenza politica Io proprio Non mi interessa neanche il partito Se sei scemo Sei scemo Guadagni 20.000 euro al mese Vai a chiedere No Nel caso dei consiglieri comunali La cifra è molto inferiore Ho capito Ho capito Però guadagni Non sei nulla facente Non hai avuto una riduzione A causa del covid Esatto E' questo Questo è il punto Non è che il covid ti ha ridotto le entrate Eri così già prima Certo Ecco quindi Quelle erano fondi Che dovevano andare Allora Mi hai scelto uno di sinistra Che ha fatto mea colpa Che coincidenza vera No Perché è la prima notizia Che è apparsa adesso Sul Corriere della Sera Vabbè ma lascia stare Vedi ecco Furbetti del bonus Subito dopo Consigliera comunale di Milano Anita Pirovano Sì ho chiesto il bonus Perché non vivo di politica Vabbè vabbè Ma questo poi Ma il partito Dovevo ignorarlo Perché No vabbè Ma il partito Ma lascia stare queste cose Ma tu c'è ancora caschi Cioè Il partito Di riferimento E' Inconcludente No All'atto pratico Però mi preoccupa Molto di più Chi ha scritto la legge Eh Mi preoccupa di più Mi preoccupa perché Perché Questo è un piccolo esempio Cioè noi ci stiamo Piene pagine Stupendo Per cinque Così Io li reputo Comunque Malati Ma nel senso Nel senso Nel senso Del cleptomani Cioè nel senso Di quello che non gli basta mai No Nel senso Di uno che non gli basta Lo stipendio che c'ha Tra l'altro Nel caso dei parlamentari Molto consistente E per andarsi Ad acchiappare pure Sti 600 euro E mille euro Vedete Sei veramente Cioè Comunque che sia un grande spot Per il referendum Confermativo Del 20 e 21 settembre Si può dire tranquillamente Cioè Adesso io non so Se nei sondaggi Fosse avanti Il no Rispetto al sì Questo è confermativo Non abrogativo Così diamo anche un'informazione Di servizio Quindi Se siete per il taglio Dei parlamentari Dovete votare sì Se siete contro Dovete votare no Contrariamente Agli abrogativi Per cui no Voleva dire sì Eccetera Qua sì vuol dire sì E no vuol dire no Ora non so Se i sondaggi Che vengono citati Dicono che forse Erano in vantaggio Il no Certo che questo Spingerà moltissimi A votare sì Per il taglio Dice La casta va punita Beh Non la casta Vanno punite le persone Cioè Le persone Estrapolando Allargando il concetto Lo so però Se noi allarghiamo il concetto Allora facciamo Il popolino Sto dicendo Quello che Il sentiment Sarà Puniamo la casta Sarà populista Certo certo Senza rendersi conto Che Che chi voleva ridurre I parlamentari Erano le grandi lobby massoniche Già da tempo Giù la riduzione I parlamentari Comporta una minore Una minore Espressione del popolo Una minore rappresentatività E tutta questa Questa non è Adesso l'argomento Però quello che voglio dire È che Noi ci stiamo meravigliando Di questi cinque Poi saranno anche altri Politici Di locali Cioè Gente comunque Diciamo Poveracci Ecco Proprio Poracci Anzi Diciamo Poracci Ma non ci preoccupiamo Però Delle leggi Sempre sbagliate Che consentono Alle grandi multinazionali Di evadere Ma di evadere Ma Centinaia di miliardi Allora Perché ci meravigliamo? Cioè noi ci meravigliamo Di uno scemo Che si va a prendere 600 euro E ne guadagna 20.000 E non ci meravigliamo Del tizio che ci sono A campanella E ci porta E ci porta Che ne so L'elettrodomestico Piuttosto che il libro Le cose E le tasse Non le paga Senza pagare le tasse? No Buongiorno La Pirovano Ha dichiarato 10.000 euro Nel 2017 Buon lavoro Per quanto riguarda Guarda Valeria Ercoli Mi ha dato la sua scheda Perché C'è L'amministrazione pubblica È assolutamente Trasparente Quindi nel periodo Che è indicato Dal 1 gennaio 2017 Al 31-12 2017 Ha avuto Un importo Legato alla presenza Come gettone di presenza Di 20 Circa 26.000 euro Quindi poi Ma comunque Sono fatti Fatti i suoi Resta il fatto Che è la prima E unica Al momento Ad aver fatto Coming Out Ce ne dovrebbero essere Altri 1999 Che dovrebbero farlo Tenuto conto Che il numero Indicato è intorno Ai 2000